iniziamo con il tagliare a metà dei pomodorini sono circa una quindicina di pomodorini poi vedete voi insomma in base a quante seppioline userete perché io farò le seppioline che sono circa 400 grammi di seppioline poi ho preso un peperone giallo sapete bene che a me piacciono molto i colori quindi cerco di abbinare più verdure nella realizzazione di un qualsiasi piatto ok quindi i pomodorini tagliate a metà e i peperoni poi nel frattempo ho preso una padella quindi ho fatto tutto a pezzettini piccoli una padella capiente e ho messo dentro come vedete c'è un altro spicchio dentro la mano due spicchi d'aglio glielo tritati dentro una decina di spruzzi di olio 10 12 spruzzi di olio che corrispondono a un cucchiaino di olio sul fuoco acceso dopodiché ho preso appunto le seppioline che ho lavato pulito di più perché comunque in alcune parti c'è sempre l'occhietto che rimane dentro ed è bruttissimo poi trovarselo sotto i denti e quindi io li lavo e cerco di pulirli ancora meglio poi ho preso mezzo bicchiere di vino bianco e glielo ho messo sopra quindi sfumata col vino e poi iniziamo con il pepe poi ho messo il timo fresco mi sa che questa piantina di timo che ho comprato non arriverò a piantarla perché me la finisco prima il prezzemolo abbondate col prezzemolo io vi faccio vedere una piccola dose ma in realtà ne metto ancora di più abbondiamo anche con il prezzemolo poi avevo messo a dissalare dei capperi come già detto li ho riscoperti come ingrediente mi piacciono molto strizzati e messi dentro i peperoni e i pomodori come vedete passano pochi secondi io metto tutto tutto le olive una volta aver messo tutto giro per bene il peperoncino che gli dà buon sapore questi sono gli ultimi peperoncini delle mie piante e poi giriamo visto che bei colori che fa bello e anche buono e copriamo dopo un pochino metto il sale quindi dopo una decina di minuti che ha ristretto un pochino metto il sale così non rischiamo di farlo salato e diciamo che ci vorranno almeno 20 25 minuti per poter cuocere tutto quello che abbiamo messo oltre il pesce a fine cottura aggiungo anche lo zenzero fresco e ora vi faccio vedere il piatto finito che io abbinerei tranquillamente anche con che ne so una buona purea di patate o un bel riso alla brasiliana come il solito riso bianco che mi piace tanto quindi questo è il piatto finito aggiungiamo un pochino di prezzemolo se vi piace più ristretto ripeto fatelo cuocere ancora in modo senza coperchio così si restringe ma secondo me questo è l'ideale anche con una buona bruschetta vicino ci starebbe bene mi viene l'acquolina in bocca a riguardare e io l'ho mangiato ieri sera e questo è quanto alla prossima